Ciao amici di Kobo e lettori di mondadori.it, benvenuti, siamo qui a presentarvi il nuovo gioiello della casa Kobo, Kobo Aura. Io sono Claudio. Io sono Gabriele. E in questo unboxing vi presenteremo le maggiori novità di questo prodotto. Come possiamo vedere ci troviamo qui di fronte, abbiamo queste due belle scatole di Kobo Aura. Aprendole all'interno troviamo immediatamente il nostro nuovo Kobo, in questo caso in versione pink. E all'interno della scatola troviamo anche una guida di benvenuto, molto semplice e chiara, e un cavo micro USB di collegamento per ricaricare e sincronizzare il vostro device. Stiamo andando molto veloci perché ci sono molte novità e molte cose da aggiornarvi. Come potete vedere il design del nuovo Kobo Aura è molto pratico, elegante e moderno, caratterizzato da un nuovo schermo che noi chiamiamo edge to edge, quindi che arriva da un bordo all'altro, senza scalini, senza cornici, e da un retro, in questo caso lo possiamo vedere in versione pink, che è ergonomico, ha una forma pratica da tenere in mano, ma c'è anche in versione... C'è anche in versione nera. Esatto. Con un sfondo zigrinato... E un dorso antiscivolo, di fatto. Esatto, esatto. Che mi permette di mantenere il vostro Kobo in mano in maniera pratica e veloce. Nella parte alta del dispositivo troviamo il pulsante di accensione a cui siamo abituati, il pulsante per l'attivazione della comfort light di cui vi parleremo dopo, l'ingresso micro USB per la ricarica e la sincronizzazione del cellulare, un ingresso per una schedina di memoria micro SD per ampliare la memoria del vostro dispositivo, ma anche di questo vi parleremo dopo. Un attimo un inciso anche sulle dimensioni del nostro Kobo Aura. Giusto. Che sono particolarmente compatte, vero Claudio? Esatto, si tratta... Sono 15 centimetri per 11.4 e lo spessore non arriva neanche ad un centimetro. Sì, come possiamo vedere è veramente molto sottile, quindi è pratico da tenere in borsa, sono 8,1 millimetri per essere precisi. Esattamente, anche il peso 174 grammi, assolutamente leggero. Molto leggero. Si tratta di uno schermo da 6 pollici con una risoluzione di 1014x758, quindi alta risoluzione, perfettamente chiaro, definito, come possiamo ben vedere. Permette una lettura molto pratica e per nulla stancante dei vostri libri preferiti. Sempre riguardo alla lettura pratica e non stancante, vi andiamo a introdurre la nostra Comfort Light, a cui ci eravamo già abituati col Kobo Glow, ma che in questo caso subisce un'evoluzione. Si tratta di una illuminazione innovativa che può essere regolata, adesso vi facciamo vedere immediatamente come, col semplice scorrere di un dito. Sempre tra le novità del nostro Kobo troviamo un'home page rinnovata, caratterizzata da queste mattonelle, come le andiamo a definire noi. Un accesso ai contenuti poi più rilevanti. Esatto, esatto, un accesso immediato alla vostra Kobo Reading Life, quindi gli ultimi libri letti, ma anche gli articoli di Pocket di cui andiamo a parlare fra un secondo, i libri consigliati e tutto il resto, quello che vi serve da sapere per arricchire la vostra vita di lettori. Un'altra novità a cui possiamo accedere dall'home page sono le collezioni di Kobo. E questa è appunto la novità del Kobo Aura. Esatto, una collezione vi permette di raccogliere in maniera ragionata i libri che avete all'interno della vostra libreria, quindi in questo caso noi abbiamo creato una collezione che si chiama Da Non Perdere e abbiamo inserito all'interno dei libri per permetterci di farvi vedere queste migliorie che troviamo nel nostro lettore. Come al solito Kobo ci permette una personalizzazione della lettura, quindi cambio del tipo di carattere, dimensione del carattere, interlinee e margini, che permettono di adattare la lettura esattamente ai nostri desideri. Un'altra novità Claudio, lo diciamo, è l'app Kobo integrata. Esatto, l'app di Pocket a cui ci riferivamo prima. Pocket probabilmente sarete già abituati se utilizzate il vostro smartphone o il vostro pc, è un'app che permette di salvare i vostri articoli che state leggendo sul web e di rileggerli poi con comodità dopo, leggilo dopo. In questo caso abbiamo salvato alcuni articoli per mostrarvi come immediatamente vengono sincronizzati, vi permettono la lettura in maniera semplice e senza distrazioni dei vostri contenuti preferiti. Vengono visualizzate anche le immagini, come potete vedere con un'ottima risoluzione, quindi come sfogliare una vera rivista però con gli articoli che preferite voi. Ovviamente Kobo non smette di essere un wifi, ma anche un lettore di libri, per cui il wifi appunto di cui parlavamo vi permette l'accesso di uno store. L'accesso assolutamente ad oltre 3 milioni e mezzo di libri presenti sul Kobo Store. Esatto, che potete anche visualizzare dai mondadori.it, quindi potete acquistare lì i vostri libri e leggerli comodamente attraverso la sincronizzazione wifi sul vostro device. Venendo invece per finire alla parte un po' più tecnica delle caratteristiche tecniche, troviamo sotto il cofano del vostro Kobo un processore da 1 GHz che permette di avere prestazioni circa al 25% superiori rispetto alla media degli altri reader presenti in commercio. È una quantità di memoria di 4 GB, espandibile fino a 32 GB attraverso il lettore micro SD. 4 GB che vi permettono di mantenere all'interno del vostro Kobo circa oltre 3 mila e-book, quindi avete tanti libri, potrete leggere tanti libri e peraltro grazie a una batteria che dura per oltre due mesi avrete tutto il tempo necessario per leggerlo. Cos'altro dire? Ma nient'altro, direi che è un e-reader davvero innovativo. Esatto, e potete già comprarlo. Possiamo sì, assolutamente, su immondadori.it e in tutte le librerie in Mondadori, quindi acquistatelo e fateci sapere cosa ne pensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao! Ciao!